I cavalli sono in partenza partiti. Unique Diamond per linee interne si porta al comando seguito a largo da Strong Hunter quindi in terza posizione si sistema O3 tip davanti a Black Manteur che ha l'esterno re di maggio quindi zona cesarini ed in coda Super Drago. I cavalli ora all'imbocco della retta opposta alle tribune con Unique Diamond che prosegue deciso leader in seconda posizione si è sistemato ora Strong Hunter davanti a O3 tip quindi re di maggio all'esterno con dall'interno Black Manteur poi parigliati in coda Super Drago e zona cesarini. Non cambiano le posizioni e il gruppo si riunisce verso l'imbocco della curva di fondo dove sempre Unique Diamond in vantaggio davanti a Strong Hunter mentre re di maggio a pariglia in terza posizione O3 tip quindi anche Black Manteur ha all'esterno zona cesarini mentre rimane in coda Super Drago. Cavalli ora lungo la curva c'è stata una leggera accelerazione nel ritmo da parte di Unique Diamond che ora ha guadagnato circa 3-4 lunghezze nei compronti di Strong Hunter che segue davanti a re di maggio quindi O3 tip a largo zona cesarini quindi Black Manteur e in coda Super Drago. Siamo in retta di arrivo Unique Diamond allo steccato inseguito da Strong Hunter per linee interne risale anche O3 tip poi re di maggio Black Manteur a centro pista con a largo Super Drago. Siamo a 400 dal palo Unique Diamond tenta l'allungo sotto l'attacco di re di maggio e ancora più incisivo quello di Super Drago a centro pista. Nel tratto finale Super Drago è passato sul re di maggio Unique Diamond e Black Manteur e anche O3 tip. Nel tratto conclusivo Super Drago è in leggero vantaggio sul re di maggio e sul palo è Super Drago che si impone a re di maggio O3 tip e Black Manteur. Andiamo a rivedere questo bel tempidale con l'affermazione di Gian Pasquale Fois in sostituzione di Francesco Dettori in sella a Super Drago che mette una mezza lunghezza di vantaggio nei confronti di re di maggio numero 7 e al terzo posto Unique Diamond quindi 8-7-2 è il probabile e ufficioso arrivo di questa quinta ed ultima corsa da Agnano. È tutto per oggi a risentirci martedì prossimo. Grazie a tutti.